È attesa per il prossimo 18 maggio la decisione del giudice del Tribunale di Arezzo, Stefano Cascone, sul filone processuale con l'accusa di falso improspetto nell'ampia inchiesta sul crack di Banca Etruria. Martedì è stato infatti il giorno delle difese. I legali dei tre imputati, l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il responsabile dell'epoca del risk management David Canestri, hanno chiesto la piena soluzione. Gli avvocati hanno sottolineato come non si sia mai profilato un caso di falso improspetto dal momento che la documentazione sul mercato azionario era chiara e non conteneva indicazioni incomplete o fuorvianti, ma rispettava la normale procedura bancaria. Si è trattato dunque di un caso, secondo i legali, influenzato anche dal clamore sorto attorno alla banca retina. L'accusa che lo scorso 16 marzo aveva chiesto condanna ad un anno e mezzo per bronchi e fornasari e ad un anno per canestri sostiene invece al contrario che furono fornite informazioni imprecise, tali da mettere i risparmiatori nella condizione di vedere andare in fumo i risparmi quando poi arrivò il decreto salvabanche del novembre 2015, il prossimo 18 maggio, la sentenza del giudice. Grazie. Grazie. Grazie.